I poliziotti della squadra mobile di Agrigento, capitanati da Giovanni Minardi, hanno arrestato ai domiciliari Walter Bosco, 38 anni di Favara, residente ad Agrigento, Antonio Sanfilippo, 21 anni di Favara e Alessandro Sguali, 41 anni di Agrigento. Ad una quarta persona, BG sono le iniziali del nome, 22 anni di Favara è stato imposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I primi tre, Bosco, Sanfilippo e Sguali, sono accusati di essere responsabili di rapina aggravata in concorso ad Agrigento lo scorso 31 luglio 2015 e di estorsione aggravata in concorso compiuta a Favara l'11 agosto 2015. E i quattro, tutti, sono indagati anche per un episodio di tentata estorsione aggravata compiuto a Favara il 2 agosto scorso. E' indagata a piede libero anche una quinta persona. Le misure cautelari sono state richieste dalla Procura della Repubblica di Agrigento, dal pubblico ministero Brunella Sardoni, alla giudice per le indagini preliminari del Tribunale Stefano Zammuto. Un uomo di 30 anni di Favara avrebbe concordato la vendita del proprio motociclo con Antonio Sanfilippo per 4.000 euro. Tale somma sarebbe stata ritenuta troppo esosa dagli altri arrestati, i quali avrebbero raggiunto il venditore al villaggio Mosè e gli avrebbero rapinato il motociclo, accusandolo di avere tentato di vendere un mezzo che al massimo sarebbe valso 2.000 euro. E non solo. Gli stessi arrestati per punire la vittima del tentativo di vendere ad un prezzo troppo esoso, il motociclo, al San Filippo ne avrebbero preteso la vendita senza versare alcuna somma alla vittima. I dettagli della vicenda riguardano la compravendita di un motociclo, un'onda CBR. Il prezzo di vendita viene considerato dagli amici dell'acquirente troppo esoso, tanto che decidono di rapinare la moto e quindi questa è la prima imbutazione. A seguire poi c'è un tentativo di estorsione di una somma di denaro e l'estorsione consumata del compravendita tramite passaggio di proprietà. Agli arresti di oggi si arriva finalmente tramite il contatto con la vittima che viene supportato fin dall'inizio al nostro ufficio e viene accompagnato passo passo fino alla soluzione del caso. Partiamo dalla fine di luglio e nell'arco di pochissimi giorni siamo riusciti ad ottenere il risultato importante che ha portato a queste ordinanze. È inutile subire prevaricazioni di qualsiasi genere, nel caso specifico parliamo di privati, ma in generale quello che può riguardare anche commercianti, inventori e quant'altro nel momento in cui ci si rivolge a organi come la squadra mobile sicuramente si arriva al risultato e non si subisce inutilmente determinate prevaricazioni.